Scene da Far West in via Sette Soldi, rissa tra giovanissimi che si lanciano tavoli e sedie dei locali. Accusata di aver procurato tre incidenti stradali in due anni, ma il marito mette in guardia, occhio alle truffe. Festeggeranno il loro compleanno ogni quattro anni e la sorte di quattro bebè nati oggi all'ospedale Santo Stefano. Un'opera d'arte ambientale e onosi per gli uccelli migratori nella cassa di espansione di Ponte Attigliano. Ben trovati a questa edizione della sera del nostro Tg. Scene da Far West ieri sera in via Sette Soldi, dove due gruppi di giovanissimi si sono fronteggiati in strada lanciandosi tavoli e sedie dei locali. Vediamo. Scene da Far West la notte scorsa in piano centro all'esterno dei locali di via Sette Soldi, una delle strade club della Movida Pratese. Due gruppi contrapposti di giovanissimi si sono fronteggiati lanciandosi sedie e tavolini al culmine di una lite per futili motivi tra gli avventori dei locali. Come si vede dalle immagini, la rissa ha riguardato diversi ragazzi che si sono presi a pugni e si sono scagliati oggetti usando i vicoli bonconti e inghiranni come luoghi in cui ripararsi. Nei filmati che stanno facendo il giro delle chat e della rete si vede anche una giovane scagliare una sedia in direzione del gruppo rivale. Sul posto sono poi intervenute diverse pattuglie delle forze dell'ordine. I carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto hanno identificato 4 o 5 ragazzi appartenenti ad una fazione, tutti sui 20 anni di età. Avrebbero dichiarato di essere stati aggrediti da un giovane che aveva avvicinato uno di loro chiedendo insistentemente una sigaretta per poi passare alle mani. Il parapiglia potrebbe poi essersi esteso anche ad un terzo gruppo di ragazzi. Alla fine tre giovani coinvolti negli scontri si sono fatti refertare al pronto soccorso per lievi contusioni guaribili in pochi giorni. Oltre che rispondere dei danni arrecati agli arredi dei locali di via Satte Soldi, i responsabili dei disordini rischiano ora una denuncia per rissa. Ancora una volta siamo costretti ad assistere a scene da Far West con una rissa in pieno centro storico. Lo affermano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Carmine Maioriello e Silvia Lavita, che lo scorso ottobre hanno depositato una mozione per istituire una pattuglia di vigili urbani in centro storico in orario notturno nel fine settimana nei giorni festivi quando vi è un forte afflusso di persone. La mozione, sottolineano i consiglieri pentastellati, ad oggi non è stata ancora discussa in Consiglio Comunale. Ci auguriamo che il PD con il sindaco in testa anche in seguito a questo ennesimo episodio di violenza si assuma la responsabilità di governare e di affrontare la situazione prima che diventi un'emergenza, affermano Maioriello e Lavita. Crisi da coronavirus. Le imprese del distretto Tessile chiedono aiuti straordinari alle istituzioni e al governo. Paga Dazio anche CAP. Danno da 500 mila euro per le gite scolastiche annullate. L'effetto coronavirus preoccupa il mondo della filiera moda, un settore che rimane anche in questo difficile periodo attivo e produttivo ma che potrebbe risentire in maniera pesante di un clima dominato da ansie e non sorrette da evidenze scientifiche. A dirlo sono CNA Federmoda, Confartigianato e Confindustria Toscana Nord, preoccupati per i potenziali effetti a medio termine della brusca frenata dell'economia mondiale anche al di fuori delle aree a maggior rischio. La paura è che quanto sta avvenendo in questi primi mesi dell'anno comprometta sia le vendite della primavera che l'acquisizione degli ordini invernali. Da qui la richiesta di un intervento urgente e dell'apertura immediata di un tavolo di confronto con il governo per non danneggiare la filiera moda, tutelando le aziende produttive e l'indotto della subfornitura e garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali e la liquidità. Nonostante il periodo difficile però, come spiegato in una nota congiunta dalle tre associazioni di categoria, le imprese continuano a lavorare ma chiedono misure a sostegno di un settore come il tessile abbigliamento italiano che vale 55 miliardi di euro per quasi il 60% costituiti da export. A preoccupare sono anche le cancellazioni di fiere emissioni all'estero e dall'estero, così come, sottolinano i presidenti di Confindustria Toscana Nord Andrea Cavicchi, Fabio Pietrella di Confartigianato Moda e Marco Landi di CNA Federmoda, le difficoltà che riscontriamo nei contatti con clienti ed agenti, talvolta intimoriti da possibili contagi. A questo si aggiungono possibili difficoltà negli approvvigionamenti di materie prime e prodotti necessari alle lavorazioni. Da un lato registriamo un fortissimo rallentamento dell'export dovuto alla poca affluenza di buyers internazionali in occasione delle principali fiere di settore e durante la Fashion Week milanese. Dall'altro un allarmismo diffuso alimentato dalla poca prontezza nella gestione politica di una strategia economica di emergenza. Tra le richieste del distretto, lasciare liquidità alle imprese con sospensione dei pagamenti contributivi, imposte, tasse, moratorie a rate mutui e accelerazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, potenziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mantenere aperta la circolazione delle merce e degli automezzi per garantire rifornimenti e approvvigionamenti alle imprese, ma anche tutelare i lavoratori dipendenti attraverso l'estensione della cassa integrazione, il ristoro dei danni diretti per le imprese la cui attività dovesse essere sospesa per effetto dei dispositivi di legge, rinvio degli adempimenti e alleggerimento degli oneri a carico delle aziende. Non solo mondo della moda, l'effetto coronavirus sta creando disagi anche al comparto turistico di tutta l'area pratese. Nei giorni scorsi avevamo raccolto il grido d'allarme di Federalberghi che aveva ribadito che le presenze nel mese di febbraio avrebbero subito un crollo in alcuni hotel addirittura del 50% rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Preoccupazioni arrivano anche da K. Il presidente Giuseppe Gori stima una perdita riferita al turismo scolastico pari a 500 mila euro dovuto al fatto che vengono annullati non solo i viaggi di escursione che dovevano tenersi entro il 15 marzo ma anche tutti quelli già fissati. E proprio per fare il punto della situazione per lunedì è stato convocato un incontro tra il sindaco Biffoni, l'assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, le categorie economiche e le organizzazioni sindacali. Un vertice per valutare quali possono essere le misure da intraprendere a sostegno dell'economia della città. Lutto nel mondo dell'imprenditoria per la scomparsa di Furio Coppini, una delle figure più rappresentative nel mondo degli spedizionieri pratesi. Coppini scomparso all'età di 74 anni e stato il fondatore oltre 50 anni fa dell'impresa Beco Sped, oggi presente oltre la sede di Prato anche a Milano e Parigi. Oltre che nel mondo d'impresa, Coppini aveva legato il suo nome a quello dello sport, essendo divenuto negli anni presidente di vari club e associazioni di Prato, tra cui il Tennis Club Etruria. Gli industriali esprimano il più profondo cordoglio per la sua scomparsa in Confindustria Toscana Nord e prima ancora nell'Unione Industriale Pratese. Coppini è stato socio attivo e partecipe della vita associativa, ricoprendo cariche di rilievo nella sua sezione e negli organi dell'associazione che ha rappresentato anche nella società Interporto della Toscana Centrale. La camera ardente è allestita alle cappelle del commiato della Misericordia in via Convenevo. Le funerali si terranno lunedì 2 marzo alle ore 10 nella chiesa di San Domenico. In occasione dei 50 anni del conferimento della medaglia d'oro al Valor Militare al Comune di Stazzema, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato oggi a Sant'Anna di Stazzema, luogo dell'ecidio nazi fascista del 12 agosto del 1944, che fece 560 vittime. Vediamo. A Sant'Anna di Stazzema ci fu una strage tra le più efferate della Seconda Guerra Mondiale e questa ferita non potrà mai essere cancellata. Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato a Sant'Anna di Stazzema, luogo dell'ecidio nazi fascista, del 12 agosto 1944, che fece 560 vittime, anziani, donne e bambini. Il Presidente Mattarella ha visitato il Paese della Versiglia per i 50 anni dal conferimento della medaglia d'oro al Valor Militare al Comune di Stazzema. Al suo arrivo il Capo dello Stato ha incontrato Enrico Pieri, sopravvissuto all'ecidio che all'epoca aveva solo 10 anni. Poi il Presidente Mattarella ha deposto una corona di alloro presso il monumento che ricorda le vittime. Alla cerimonia commemorativa il Presidente della Repubblica ha ricordato il valore della memoria. Il tempo può attenuare il dolore, può allontanare lo strazio degli orori più indicibili, ma non possiamo consentire che le coscienze si addormentino, che le intelligenze smettono di produrre anticorpi al virus della violenza e dell'odio. Durante la visita a Sant'Anna di Stazzema il Presidente Sergio Mattarella ha visitato il Museo Storico della Resistenza e incontrato i supestiti dell'ecidio. Un Presidente è sempre un Presidente, un Presidente della Repubblica che viene a rendere omaggio ai martiri di Sant'Anna è sempre una cosa importante. Poi una persona come me, come Mattarella, veramente ancora di più. È stata una bellissima giornata, soprattutto il momento in cui il Presidente ha incontrato i supestiti. Questa cosa è stata veramente emozionante e toccante. Lì è venuto fuori non solo il Presidente della Repubblica, ma anche l'uomo che si è emozionato, si è commosso a sentire le storie che raccontavano. Poi, prima di ripartire, il Presidente Mattarella ha salutato le persone arrivate a Sant'Anna di Stazzema per partecipare alla cerimonia. Accusata di aver procurato tre incidenti stradali in due anni, ma in due casi i richiedenti di risarcimento hanno poi rinunciato alle pretese. Il marito mette in guardia, occhio alle truffe. Tre casi di tentata truffa per falsi incidenti stradali in due anni. È quanto lamentato dalla moglie del fornaio Alessandro Fogacci che racconta gli episodi per mettere in guardia altre potenziali vittime. I primi due casi si sono risolti positivamente, l'ultimo sta invece avendo un epilogo diverso. Tre mesi fa, racconta Fogacci, la moglie stava uscendo da un parcheggio in via Trieste al soccorso quando un cittadino cinese la fermò accusandola di aver urtato l'auto di un amico ferma in sosta. L'uomo iniziò ad urlare richiamando il proprietario del veicolo a corso immediatamente. Urlando poi è venuto fuori il titolare che ha cominciato ancora a inviare verso la mia moglie. e avvicinandosi ha anche tirato un cazzotto sulla macchina e aveva la bambina in macchina che era iniziata a piangere. Quindi la mia moglie si è sentita abbastanza attaccata e impaurita. A quel punto lei ha detto, va bene se ti pensi che ci sia un incidente siamo carabinieri per accertare gli incidenti. A quel punto lui ha cominciato a dire, no no non importa, non importa, allora vai via. Ha cominciato a offendere, a usare parole forti e quindi la mia moglie un po' impaurita, un po' la bambina piangeva in macchina, ha preso la macchina e si è allontanata. Nel frattempo molto probabilmente lui il cellulare ha preso il numero di targa e dal numero di targa poi ha fatto la denuncia alla sua assicurazione che ha mandato a chiamare la mia e ha iniziato la prassi di richiesta danni. Fogacci lamenta di non essere stato tutelato dall'assicurazione a cui spetta fare denuncia in casi come questi e che invece gli ha consigliato due volte, facendogli perdere soltanto tempo, di recarsi alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Un perito ha poi ritenuto compatibili con un incidente alcuni segni presenti sulla carrozzeria dell'auto della donna che i fugacci sostengono essere preesistenti. Così, con ogni probabilità, questa volta l'automobilista riceverà torto e subirà l'aumento della polizza. Negli altri due episodi, invece, i due uomini, anche in questo caso automobilisti cinesi, che l'avevano accusata di aver procurato un sinistro, rinunciarono alle loro pretese. In un caso immediatamente, grazie alla presenza di alcuni testimoni, nell'altro caso, dopo che Alessandro Fogacci presentò denuncia per tentata truffa alla Guardia di Finanza, visto che a lui, in quell'episodio, erano state indirizzate le richieste di risarcimento. Ci sono due casi precedenti che erano già capitate a sua moglie e probabilmente è stata un po' presa di mira. Molto probabilmente, alcune persone ho parlato, anche stranieri, dicono che una possibilità che è presa di mira è che, essendo di colore, mia moglie di colore, vedendo che è straniera, non sapendo che è cittadina italiana, perché tanti anni abita in Italia e siamo sposati, può essere presa nell'inganno, non conoscendo bene le leggi, lasciando andare le cose, visto che c'è una procedura che se te non reclami la propria ragione, entro 8 giorni vanno avanti per prassi e l'assicurazione, anche se avessi ragione, il 100% paga, perché te non hai dato un dinego, non hai portato delle prove a tuo favore, e quindi l'assicurazione ti ritiene, anche se la tua assurazione è colpevole, e manda avanti tutto. Il 2020 è un anno bisestile, dunque oggi è un giorno speciale, in particolare per i nuovi nati, quattro i nuovi bebè pratesi, che festeggeranno il loro compleanno ogni quattro anni. Siamo andati a conoscerli all'ospedale Santo Stefano. Si chiamano entrambi Tommaso e le loro mamme si chiamano tutte e due Barbara. Coincidenza vuole che entrambi i bimbi siano nati il 29 febbraio, giorno ricco di affascinanti connotazioni folcloristiche, all'ospedale Santo Stefano. Tommaso è nato il 29 febbraio, quando era in realtà la data presunta del parto? Il 5 marzo, però ha voluto farci lo scherzetto, è nato il 29. Voi speravate nascesse il 29 oppure no? Ci avevate pensato a questa cosa? Sinceramente no, però è capitato e l'importanza è che sia andato tutto bene, poi per il resto è relativo. Doveva essere il 26 febbraio, è nato con tre giorni dopo di 29, e niente, siamo contenti lo stesso, ci ha preso un po' la sprovvista perché è capitato bisestile, però siamo contenti lo stesso, è nato bene, sta bene, e quindi va tutto bene. Quando festeggeranno non c'è una regola precisa, la scelta è totalmente libera, anche se c'è chi preferisce affidarsi all'orario, e quindi coloro che sono nati il 29 febbraio prima delle 12 festeggiano negli anni no bisestili il 28 febbraio, chi invece è nato dopo le 12 opta per il 1 marzo. Le due no mamme hanno però le idee chiare, festeggeremo il 1 marzo, e ovviamente ogni 4 anni grande festa il 29 febbraio. Destino vuole che prima che nascesse, gli ho detto al mio compagno, speriamo non nasca il 29, perché ho detto è bisestile quest'anno, e lui mi fa ma va figurati, ed è nato il 29. Sembra fatto apposta, è nato il 29, comunque siamo contenti lo stesso, non è un problema. Si festeggia il 1 marzo tutti gli anni, quando non c'è il 29, una volta ogni 4 si festeggia. festeggeremo tutti gli anni, magari ogni 29 di febbraio ci sarà la grande festa, certo, quello sicuramente, festeggeremo però vedrà il 1 marzo. Come glielo racconterete al bambino che dovrà festeggiare il 1 marzo, una volta ogni 4 anni, il 29, ci avete pensato o ancora no? Quello non ci abbiamo ancora pensato, si racconterà magari in modo divertente, per vedere un attimino, di prenderla sul ridere, che poi sembra piccoli, magari non si rendono ancora conto, sembra fatto poi apposta, capito, allora glielo spiegheremo in qualche modo, com'è la data. Sinceramente no, sinceramente ancora non ci abbiamo pensato, però vedremo come dirlo, come dirlo, si, vediamo poi. Il 2020 è appunto un anno bisestile, al Santo Stefano ad ora sono 4 i bimbi, tutti di nazionalità italiana, venuti al mondo il 29 febbraio. Oltre ai due piccoli di nome Tommaso, hanno visto la luce oggi, Anna e Valentino. Un'opera d'arte ambientale, e onosi per gli uccelli migratori, nella cassa d'espansione di Ponte Attigliano. È stata inaugurata oggi nell'area di Ponte Attigliano, una nuova opera ambientale del biologo Carlo Scoccianti, già autore di interventi in varie zone umide della Piana Fiorentina. Ecco Tony, questo è il nome della realizzazione, vuole restituire un alto grado di naturalità e di bellezza alla Piana, agendo nell'ambito della nuova cassa di espansione idraulica di Ponte Attigliano. Ecco Tony è una nuova opera ambientale, quindi ecologica, paesaggistica ed estetica, che abbiamo voluto, come comunità della Piana, creare grazie all'interessamento dei sindaci di Ponte Attigliano e di Prato, ma anche grazie all'intervento del Consorzio di Bonifica e del WWF che l'ha spinta fin dall'inizio. Abbiamo potuto ricreare in una cassa di espansione, che come tutte le casse di espansione, purtroppo vengono progettate come un grande buco vuoto, dove ogni tanto va l'acqua. In questo caso vogliamo che l'acqua stazioni sul suo fondo più volte, vogliamo che possa ospitare quest'area nei diversi suoi punti aspetti tantissime specie di uccelli e di altri animali e vogliamo che sia un patrimonio nuovo, appunto, fatto dall'uomo godibile, in onore della natura e per la nostra natura. D'ora in poi gli uccelli migratori, come migliaia di altre specie, avranno a disposizione un'altra importante area dove possa fermarsi e trovare rifugio. Grazie anche alla recente inaugurazione del vicino Ponte Manetti, i cittadini troveranno invece un luogo dove godere il nuovo paesaggio naturale, incastonato tra la Villa Medicea di Poggio a Caiano, la Fattoria Medicea con le cascine di Tavola e il barco Mediceo di Bonistallo. La cassa di espansione qui alle nostre spalle ha messo in sicurezza tutta la zona sud della città, Castelnuovo, Tavola, ma anche Iolo, Tobiana e ovviamente Poggio a Caiano, come l'ha il Ponte Manetti, una straordinaria opera fra Comune di Prato, Comune di Poggio e Provincia che ha rimesso in connessione un'area bellissima. Adesso è Cotoni perché quest'area oltre ad essere fruibile e sicura e messa in sicurezza deve essere anche bella e deve essere praticabile dalle tante specie animali che qui possono venire a riprodursi, a riposarsi durante i loro spostamenti e deve essere anche gradevole alla vista. Cavalieri d'Italia, tante specie che in queste aree trovano il proprio luogo di vita. Sono un qualcosa che è sicuramente di interesse per tutti i cittadini, ma che se si mette per esempio accanto a patrimoni culturali pazzeschi come quello della Villa Medicia di Poggio a Caiano dà un motivo in più a un turista per venire a visitare le nostre zone. Visitare il centro storico di Firenze, vedere il Rinascimento, vedere i medici, ma vedere anche per esempio un'area verde, un ambiente tutelato dal WWF dove appunto incontrare specie, animali che altrimenti non potremmo incontrare e anche conoscere, anche per i nostri bambini. Obiettivo raggiunto e superato per la raccolta fondi tutti in cucina partita ad ottobre scorso con l'obiettivo di supportare attraverso il sostegno della fondazione Noi, Lega Copp Toscana, la realizzazione di una cucina accessibile nell'ambito del progetto Prama promosso da Fondazione AMI e Avis di Prato attraverso donazioni online ed eventi organizzati sul territorio ultima in ordine di tempo la serata conclusiva di raccolta fondi che si è svolta ieri al Circolo Arci di Tavola è stata raggiunta la cifra complessiva di 12 mila euro i fondi serviranno a realizzare una cucina accessibile nel centro ludico motorio inclusivo dedicato a bambini e ragazzi che il progetto Prama intende realizzare all'interno della palazzina Avis di Sant'Orsola In salone consigliare un convegno sulla riforma del terzo settore organizzato dall'ordine dei commercialisti nella nostra città sono attive 188 associazioni di volontariato 146 associazioni di promozione sociale 42 cooperative sociali e 75 onlus Confronto a tutto campo ieri pomeriggio nel salone consigliare del comune sulla riforma del terzo settore per fare il punto su una situazione complessa in evoluzione l'ordine dei commercialisti di Prato ha organizzato un appuntamento che riguarda centinaia di realtà Nella nostra città sono infatti attive 188 associazioni di volontariato 146 associazioni di promozione sociale 42 cooperative sociali e 75 onlus numeri importanti tra i quali c'è l'attività quotidiana di migliaia di persone L'ordine dei commercialisti ha voluto così confermare la sua attenzione al terzo settore Prato ha dei grossi numeri ma soprattutto la cosa bella di Prato è che c'è questa grande attenzione soprattutto con i volontari che si dedicano tantissimo a questo ci sono tantissime associazioni tante fondazioni ma poi ecco la cosa importante sono anche le fondazioni che ci sono di ricerca Intanto anche la regione toscana si prepara a portare a compimento il percorso della legge per il sostegno al terzo settore che disegna il rapporto nuovo tra pubblica amministrazione e associazioni l'attenzione è molto concentrata sulle novità che dovrebbero arrivare a livello nazionale con l'istituzione del registro del terzo settore Stiamo lavorando per la costruzione del registro unico del terzo settore che è il registro che raccoglierà tutti gli enti del terzo settore italiani sarà amministrato dalle regioni è una fase molto delicata perché si viene da una fase in cui tutte le associazioni e gli enti erano iscritti e gli albi regionali dovranno migrare nell'albo nazionale ma in realtà mentre accade questo ancora mancano dei provvedimenti importanti in particolare manca il decreto relativo all'articolo 6 che disciplina le attività secondarie l'articolo 7 che disciplina la raccolta fondi e tutto il dispositivo fiscale quindi sarà molto importante che si riescano a sciogliere questi nodi prima dell'ingresso in vigore del registro perché diversamente gli enti potrebbero essere in grossa difficoltà a determinare il proprio vestito statutario a cambiare pelle a prendere le proprie decisioni nei tempi e nei modi che la legge ha previsto secondo appuntamento con la Catechesi in TV domani alle ore 21 su TV Prato andrà in onda la puntata registrata nella parrocchia di San Giusto il parroco Don Helmut Zeliga ha commentato insieme ad un nutrito gruppo di fedeli la seconda scheda degli Atti degli Apostoli contenuta nel libretto preparato per tutta la diocesi dal Vescovo Giovanni la puntata andrà in replica martedì alle 21.50 e mercoledì alle 12.50 allora scopriamo insieme l'anteprima della Catechesi in TV che andrà in onda domani sera cosa fa un prete a quest'ora fuori dalla chiesa con il suo cane ciò che faccio ogni due settimane quando aspetto i miei parrocchiani con i quali leggiamo e condividiamo la Sacra Scrittura questa sera approfondiremo il capitolo ottavo che vede nella prima parte la storia della grande persecuzione della Chiesa di Gerusalemme i perseguitati però scappando diffondono il Vangelo anche dalle altre parti della Galilea e della Samaria la seconda parte del capitolo ottavo parla del apostolo Filippo al quale l'angelo ordina di andare sulla via che conduce da Gerusalemme sono molto curioso di sapere come questi due episodi influenzeranno i pensieri le riflessioni dei miei parrocchiani e di voi che seguirete il nostro programma allora vi invito più tardi alla parrocchia di San Giusto vogli saluta 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 ci spostiamo a Firenze a Palazzo del Pegaso sede del Consiglio regionale una mostra che rende omaggio al grande poeta Mario Luzzi vediamo a 15 anni dalla morte di Mario Luzzi il Consiglio regionale della Toscana lo ha omaggiato inaugurando in Palazzo del Pegaso la mostra della sua collezione di opere d'arte appena acquisita l'omaggio al poeta e senatore a vita è stato realizzato insieme al gabinetto VSE un lascito importante che permette di approfondire gli studi su Luzzi ricostruendo le sue frequentazioni e le sue passioni artistiche quello che abbiamo fatto è stato un accordo con il figlio con la famiglia e questo ci porta oggi nell'interesse generale e comune con la reciproca soddisfazione a sentirgli un bene pubblico che sicuramente finalizzeremo in un'area destinata al pubblico probabilmente il Museo della Fotoscana a cui io penso insieme alle foto alinari perché Mario Luzzi è il poeta simbolo di quella festa della Toscana di cui quest'anno abbiamo vissuto i vent'anni la collezione conta più di 400 pezzi e oltre le opere d'arte ci sono blocchi di appunti quaderni libri con dediche di famosi scrittori e poeti del Novecento come Giuseppe Ungaretti e Mario Tobino è un fondo prestigioso perché era molto generoso Luzzi nelle amicizie quindi sono lettere di amici non solo intellettuali o intellettuali che al tempo stesso sono amici abbiamo una collezione molto bella anche di fotografie fino agli ultimi anni della sua vita quindi il periodo ermetico è molto documentato ma soprattutto direi appunto l'ultimo periodo così fecondo anche dal punto di vista creativo di Luzzi Luzzi morì a Firenze il 28 febbraio 2005 e in occasione del quindicesimo anniversario della sua morte è stata deposta una corona di alloro sulla sua tomba nel cimiterio di San Michele a Castello Parliamo adesso di calcio fermo il campionato di serie D per l'emergenza coronavirus il Prato continua comunque ad allenarsi in vista dello scontro al vertice con la capolista lucchese in programma domenica 8 marzo ma vediamo insieme il servizio di Massimiliano Massi L'emergenza coronavirus ha costretto la Lega Nazionale di Lettanti a rimandare la 26esma giornata del girone A del campionato di serie D la partita a Prato-Borgosesia in origine programmata per domani con inizio alle ore 14.30 allo stadio Adonelli di Montemurlo è stata rimandata a data da destinarsi il Prato reduce dalla vittoria sul terreno del Vado per 3 a 0 ha proseguito in settimana ad allenarsi al campo sportivo di Montemurlo con l'intento di preparare al meglio il big match in programma l'8 di marzo alla Porta Elisa di Lucca contro la capolista lucchese un punto dietro la lucchese è testa a testa tra Prato e lucchese in questo momento il campionato dice di sì che è testa a testa però noi pensiamo a noi sappiamo che ci sono anche altre squadre che sono lì dietro adesso ci stiamo preparando per vedere speriamo si giochi contro la lucchese il prima possibile così continuiamo il nostro percorso sinceramente speravo di continuare che non si fermi il campionato però purtroppo ci dobbiamo adeguare a queste decisioni e niente ricarichiamo le pile riprendiamo l'energia e speriamo si giochi il prima presto possibile sì è un testa a testa appassionante noi ci alleniamo tutti i giorni per bene al massimo e aspettiamo questa partita con voglia di vincere e di portare a casa un bel risultato la vittoria di Vado ha confermato la vocazione esterna del Prato in queste due ultime gare almeno in terra esterna quindi un Prato che si adatta meglio alle trasferte rispetto alle gare casalinghe cosa è successo? no ma è un caso noi giochiamo sempre allo stesso modo poi ci sta che una partita si evolva in modo diverso ma siamo sempre gli stessi insomma la partita di Luca determinerà il campionato? sì non penso che sia proprio la determinante perché ci sono altre otto partite quindi non penso che né noi né loro vinceremo tutti otto le partite dopo quella lì spero di sì ma è difficile soprattutto vedendo come viene il campionato che ci sono squadre difficili da affrontare quindi sì sarà determinante ma non proprio la finale intanto la squadra di Vincenzo Esposito proseguirà nei prossimi giorni di allenamenti in costante attesa di aggiornamenti sull'emergenza coronavirus diventato improvvisamente l'arbitro invisibile del campionato domani domenica 1 marzo in occasione della prima domenica del mese il centro Pecci offre l'ingresso gratuito dalle ore 10 alle ore 15 alle mostre in corso The Missing Planet visioni e revisioni dei tempi sovietici dalle collezioni del centro Pecci ed altre raccolte la mostra Romanistan di Luca Vitone l'esposizione di Mario Rizzi Bait e di lavori di Mohamed Keita nella mostra dal titolo Kene Spazio adesso è il momento di vedere insieme gli appuntamenti della nostra agenda domani domenica 1 marzo per tutto il giorno in piazza San Francesco mercato a cura di Confcommercio Pistoia Prato con la partecipazione di circa 40 ambulanti con prodotti di genere alimentare e non sempre tutto il giorno in piazza delle carceri Prato Antiquari mostra di collezionismo piccolo antiquariato abbigliamento e accessori vintage firmati accompagnati da oggettistica artigianale dalle 10 alle 12 a Palazzo Buonamici visivamente ultimo giorno per la mostra artistica multisensoriale interattiva al buio a cura di Sonia Arzaroli organizzata dall'associazione Arcantarte in collaborazione con l'Unione Italiana Cechi e Ipovedenti di Prato alle ore 16 e 30 al Teatro Fabricone da Prometeo alle ore 16 e 30 in biblioteca Lazzerini Il Giappone Che Passione laboratorio sulla festa delle bambole e delle bambine antica tradizione giapponese e lettura animata alle ore 17 al museo di Palazzo Pretorio mostra e sapore degustazione di pizza napoletana e show cooking nell'ambito della mostra dopo Caravaggio con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti alle ore 17 al centro civico Il villaggio del sorriso di Oste L'amore rubato proiezione del film del regista Iris Cebraschi liberamente ispirato al romanzo di Dacia Maraini E con l'agenda termina anche il nostro Tg vi ringraziamo della vostra attenzione a tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato arrivederci di TV Prato 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 di TV Prato